Dopo un attento lavoro di restauro, riapre le porte al pubblico il Giardino Alpino Vincenzo Rivera, un'oasi di biodiversità situata nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, a 2.117 metri di altitudine. Fondato nel lontano 1952 dal botanico Vincenzo Rivera, il giardino rappresenta un vero e proprio patrimonio nazionale, dedicato alla conservazione e allo studio della flora caratteristica del massiccio del Gran Sasso. Grazie all'impegno dell'Università dell'Aquila, proprietaria del sito, e alla collaborazione di esperti botanici, questo gioiello della natura è stato riportato al suo antico splendore. Per celebrare questo importante evento si è tenuta una cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato il Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, il dottor Edoardo Alesse, insieme con altre autorità istituzionali. L'occasione è stata propizia per sottolineare l'importanza di questo luogo, non solo per la comunità scientifica, ma anche per tutti gli appassionati di natura e di botanica. È un giardino botanico dedicato alla memoria del mio prozio, Vincenzo Rivera, che oltre a questo giardino, qui all'Aquila ha fondato l'Università degli Studi, è stato anche il promotore dell'osservatorio astronomico, che è qui a due passi dal giardino. Insomma, è stato uno studioso, uno scienziato che ha molto operato nelle istituzioni e anche nella ricerca scientifica. Questo giardino è tra i più alti d'Europa ed è stato il più alto d'Italia quando è stato fondato. La ragione era una ricerca scientifica legata alla resilienza delle piante per individuare le specie autoctone più adatte ai territori della zona e in particolar modo del sud Italia. Il giardino alpino Vincenzo Rivera offre ai visitatori un'esperienza unica, permettendo di ammirare da vicino una straordinaria varietà di specie vegetali tipiche dell'ambiente montano. La riapertura del giardino rappresenta un'ottima notizia anche per il turismo sostenibile del territorio. Il sito, infatti, si inserisce perfettamente all'interno di un contesto naturalistico di grande pregio, offrendo ai visitatori la possibilità di coniugare la passione per la natura con la scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico del Gran Sasso.